Ma scriverò comunque. L'argomento non è la nostra separazione. In questa pagina voglio dirti quanto, quanto ti amo. Sì, perché io ti amo alla follia. Devi credermi. Non riesco a camminare. Sono come... paralizzata. Mi manca la voce quando devo parlare. Questo non deve, non può succedere. Capisci? Non può succedere quando il sole è appena comparso nel cielo per noi. Non ti lascerò mai. Non rinuncerò a te. Sarò tua purché tu non rinunci a me. Ovunque tu vada, io ti seguirò. Se sarà necessario, dormirò davanti alla tua porta. Voglio solo che tu mi riprenda con te. Con te ho potuto vedere la bellezza. Ho provato una gioia infinita con te. Mi sono liberata da paure e da bugie, grazie a te. Ho provato un sentimento intenso. La mia sete è stata spenta, grazie alle tue labbra. La mia solitudine è nelle tue mani. La tua presenza sazia la mia fame. Mi sento completa per la prima volta con te. Sento di essere viva a ogni respiro. Quando sono con te, accanto a te, non esisto senza te. Tu e io, tu e io saremo uniti per sempre. Tu e io saremo uniti per sempre. Ti amo, Ayaz. Niente può cambiare questa realtà. Niente e nessuno la potrà cambiare. Vado io. Niente e nessuno la potrà cambiare. 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 Grazie a tutti.